Ferragosso, settimane di ferie svago, ma c'è chi veglia su di noi, pensiamo alle forze dell'ordine, pensiamo a quanti assistono a casa ammalati e persone non autosufficienti, pensiamo al lavoro del soccorso e del pronto soccorso, da una parte cioè il 118, chi interviene nel più breve tempo possibile dove c'è una chiamata, un'allarme, dall'altra chi, come nel caso del pronto soccorso del Santissima Annunziata, presta le prime cure. Un impegno intensissimo, massimale, anche sovramassimale del sistema 118, di tutti gli operatori, delle 29 ambulanze ordinarie, delle 6 automediche, delle 4 ambulanze aggiuntive e per domani avremo ancora un'altra quinta ambulanza aggiuntiva. Stiamo gestendo anche 2.000 richieste di soccorso al giorno ed effettuando 230-240 interventi al giorno. Il 118 sistema di garanzia, tempo dipendente della cittadinanza nazionale e quindi di tutti i concittadini, però che serve per garantire una risposta alle situazioni maggiori, agli eventi improvvisi e gravi, obiettivamente che allarmano. Così Mario Balzanelli, responsabile del 118 per la provincia di Taranto. Ma al pronto soccorso di Taranto come vanno le cose? Il dottor Giuseppe Turco. Per adesso il pronto soccorso di Taranto viene bene, riusciamo a far fronte a circa 185-200 pazienti al giorno che fanno richiesta naturalmente di soccorso e di aiuto tra codici maggiori o minori, criticità diverse. Non ci sono lunghe file, non c'è un periodo di attesa notevole, quindi grazie ai colleghi che si stanno sacrificando, anche non andando in vacanza, regge bene per quello che si può fare di fronte poi a un'emergenza. In questo periodo tutti sanno un maggior afflusso di pazienti per ovvie regioni. Da parte delle autorità sanitarie l'appello ai cittadini ha un senso di responsabilità nel rapporto sia col 118 che con il pronto soccorso. Nel dubbio chiamare sempre, ma quando già si sa che si tratti di un evento minore, della classica febbre a 38 tranquilla, ho un dubbio se il termometro funzioni, beh è chiaro che il 118 non deve essere chiamato. Evitare di utilizzare 118 è pronto soccorso come parcheggio per gli anziani, non lo dicono i medici, lo diciamo noi. Il dottor Turco? Sottovalutare spesso in maniera autonoma una patologia che non sembra avere conseguenze può comportare dei rischi veramente seri, quindi venite in pronto soccorso e non posso fare nessun appello perché non siete medici.